buongiorno buonasera seconda ragazzi torniamo con una video recensione lo facciamo con venturo by gruppo gamma prima però come sempre ragazzi iscrivetevi al canale campanella per non perdervi contenuti futuri per quanto riguarda il video nello specifico like commenti e perché no condividetelo sui vostri profili delle varie piattaforme a proposito di piattaforme ho aperto da poco l'account instagram ci tengo a sottolineare lo metto qua in sovraimpressione e anche giù in description se volete farmi domande potete appunto iscrivermi all'account cioè il mio profilo instagram seguirmi e farmi direttamente domande tramite le chat eccetera rispondo più o meno a tutti torniamo all'orologio torniamo a venturo un micro brand che nasce proprio con questo modello che è il field watch hashtag 2 in realtà la casa madre diciamo così e gruppo gamma che è un gruppo più noto sicuramente con più esperienza alle spalle e sicuramente anche un'azienda che lavora piuttosto piuttosto bene riconosciuta come tale quindi venturo by gruppo gamma l'orologio però andiamo a vedere tra pochissimo ci sono delle particolarità la prima su tutte che va a riprendere a ricordare fortemente a omaggiare fortemente ma questo lo dice la stessa azienda un rolex oyster army prodotto negli anni 40 quindi non va a omaggiare i soliti noti questo è un punto positivo ma ripeto lo andremo a vedere tra poco invece per quanto riguarda il packaging direi più che promosso una confezione semi rigida diciamo così nera con l'indicazione venturo by gruppo gamma la si apre dentro si trova piacevolmente due sagome che alloggiano potenzialmente due orologi in questo caso una occupata dall'orologio l'altra da un secondo cinturino però potrebbe essere comodo per quanto riguarda soprattutto chi viaggia magari vuole portarsi riutilizzare questa confezione per poter portarsi indietro dietro di sé due magari orologi poi vi è un chiaramente il certificato di garanzia e l'utensile che serve per andare in autonomia fondamentalmente un'opera con un'operazione veramente semplicissima andare in autonomia appunto a cambiare il cinturino adesso ragazzi giriamo la telecamera andiamo a vedere l'orologio più nel dettaglio ragazzi partiamo come sempre da quelle che sono le specifiche dimensionali abbiamo un 42 di diametro anche se poi vedete chiaramente non è un diametro essendo una forma diversa dalla circonferenza abbiamo non è considerato chiaramente lo spessore della corona un lug to lug di 48.5 la distanza fra l'ansette quindi regolazione del cinturino 22 un spessore massimo che è indicato come 11 più 2.5 di vetro quindi 13.5 in realtà io l'ho misurato quasi a 14 per quanto riguarda il peso indicato 100 io parlo di indicato su sito chiaramente indicato 100 grammi come valore in realtà i grammi con questo cinturino sono 102 vabbè poco poco cambia per quanto invece riguarda ragazzi le layout è chiaramente un orologio ispirato vi metto qua vicino la foto dell'orologio che viene omaggiato ovvero rolex oyster armi degli anni 40 come vedete è davvero fortemente fortemente ispirato l'orologio per quanto riguarda le linee vi metto anche chiaramente delle macro è davvero ben realizzato ci sono diversi aspetti di contrasto fra le lavorazioni lucido satinate e questo sicuramente lo rendono ancor più gradevole e insomma venturo secondo me ha lavorato molto bene per quanto riguarda la parte perlomeno la parte costruttiva di questo orologio bello bello anche il nostro fondello lo vedete particolare davvero ben realizzato piacevolissimo chiaramente ragazzi è tutto acciaio 316 l vedete questa texture particolare questa zigrinatura piacevolissima qualcosa di un po diverso e finalmente non vediamo il movimento poi il movimento lo andremo a raccontare tra poco cosa troviamo invece scritto in circonferenza rispetto a questa texture allora sapphire quindi vetro zaffero ma ne parliamo tra pochissimo vr 200 metri quindi 200 metri in profondità in immersione venturo by gruppo gamma field watch hashtag 2 che è il nome chiaramente del prodotto automatico e andiamo a vedere anche questo aspetto parlavamo di vetro uno dei punti sicuramente di forza secondo me di questo orologio è il vetro spesso è bombato che lo rendono particolare un po più difficile da come dire inquadrare facendo la realizzazione del filmato ma piacevolissimo da vedersi soprattutto alla luce del giorno il quadrante vintage chiaramente riprende in tutto e per tutto quello del rolex citato poc'anzi anche come in quel caso anche gli indici e anche il logo non sono applicati ma sono stampati effetto vintage chiaramente anche per quanto riguarda la superluminova applicata e il sul sul sugli indici che li vedete piuttosto importanti dimensionalmente parlando piuttosto cicciuti abbiamo anche superluminova sulle lancette ora e minuti niente per quanto riguarda i secondi vi faccio vedere un video accelerato così potete rendervi conto di come è l'effetto luminescenza di questo orologio bello mi piace anche il verdone il verdone del quadrante un verdone piuttosto sobrio che rispecchia un po diciamo così l'austerità no dell'orologio mentre per quanto riguarda il movimento abbiamo il solito se solito perché gran parte degli orologi dei micro brand momentaneamente montano questo calibro ovvero seiko nh35 prodotto da si lo so in memoria ragazzi la la storiella quindi 21600 alternanze fermo macchina ricarica automatica e manuale meno 20 più 40 la tolleranza giornaliera un orologio buono un buon muletto con insomma una discreta qualità è un buon entry level che ci sta in orologi di questo di questo livello qui diciamo così invece per quanto riguarda i cinturini devo dire che sono molto belli questo è comodissimo lo vediamo poi l'ho messo al polso un paio di volte infatti si è segnato subito lo vedete dopo averlo messo solo due volte però devo dire che è piacevolissimo al tatto davvero davvero notevole e oltre al tatto anche al polso si porta molto bene comodissimo e poi abbiamo anche un secondo cinturino che vi faccio vedere in un'immagine in sovra impressione che devo dire è anch'esso un buon un buon cinturino io ne ho uno praticamente uguale su un altro orologio e lo apprezzo particolarmente ragazzi ora io direi di provare un pochino questo orologio eccolo ragazzi prova polso una delle più importanti tra tutte secondo me devo dire che mi piace mi piace veramente molto un qualche cosa di diverso che esce un pochino dagli schemi odierni perlomeno si polsa molto bene non pesa tantissimo perché sono 100 o poco più i grammi e questo cinturino aiuta come già indicato prima davvero una la polsata quindi da e permette una certa comodità al polso sotto questo aspetto è sicuramente promosso venturo field watch hashtag 2 by gruppo gamma mi è piaciuto sì ci sono tantissimi aspetti che mi sono piaciuti ve li elenco velocemente innanzitutto l'originalità di andare a omaggiare un qualche cosa che non viene di solito omaggiato chiaramente proporzionandolo al 2020 come dimensioni perché il rolex oyster army degli anni 40 era di 30 millimetri questo invece sale a 42 millimetri mi è piaciuto tantissimo il vetro nella sua qualità nella sua dei suoi riflessi nella sua limpidezza tra l'altro un vetro zaffero con anti riflesso il doppio cinturino il fondello lo amo tantissimo l'effetto vintage del del quadrante insomma veramente bello un bello orologio mi è piaciuto anche il packaging devo dire che non è eccezionale ma non male cosa può essere non rivedibile di scuse se può piacere o meno sicuramente le dimensioni a me non dispiace ma mi rendo conto che altri magari l'avrebbero fatto un po più piccolo e poi il design che a me piace e quello invece può è assolutamente un dato opinabile quindi magari a voi no ma per quanto riguarda la fattura e dell'orologio c'è poco da dire la qualità c'è il movimento e l'nh35 che il solito movimento montato sulla gran maggioranza diciamo dei micro degli orologi prodotti dai micro brand ma è anche vero che alla fine è un movimento con fermo macchina con ricarica anche manuale e che funziona bene e non dà problemi chiaramente un movimento entry level una nota una nota non dolente ma bisognerebbe un attimo capire se va bene oppure no per me siamo al limite dell'accettabilità nel senso qualità prezzo la qualità è alta e c'è però costa 399 dollari quindi questo orologio costa 360 360 e 365 euro al momento non è proprio regalato se vogliamo soprattutto calcolando altre le concorre la concorrenza in generale ragazzi spero vi sia piaciuta la recensione alla prossima ciao